Francesca Mar-Papa Quando sei andata io mi sono... cioè ero arrabbiata. Ero arrabbiata e non parlavo con nessuno, non mi sono aperta con nessuno, anche dopo svariati tentativi della mia famiglia e di Don Matteo. Muttasci e nashtepette di nusceisam, nianaghe ottepedugea irannu. Are odu unnum samsarikyan kadiade, mirase ila e nyan, e la kariangalodum desepetan tudangi. Ende kudumbangangalum idavageile vigari eecunum peristramicitum e nicchionnum marakkuan kadignilla. Alice in dei vedani erriani pavam sraviccia Mar-Papa ingane predigericiu. Voi avete il fiuto, non perdelo. Il fiuto di dire questo è vero, questo non è vero, questo non va bene. Il fiuto di trovare il Signore. Vedanekalai marikadakkan, avan namada pria pettavere mai pangu vecchio ghiane seiendada. Chari eda, tetta eda, ennundu manasal akkanullal bodeyam nammu kundagana me nthum Francis Mar-Papa ingane predigericiu. Ma, certo. E' una vera. Pimmelo a tutti, qui è un diametro per il nostro paективno per il nostro paese.